Venga conmigo! Vavre a tutti! Buon anno a tutti! Un saluto da Roby e un saluto da Cristina. E parla forte che abbiamo una voce veramente cecchici questa settimana, una voce super speciale. Vai col programma di questa settimana, vai! Primo servizio, trentaduesimo concerto di fine anno al Teatro Verde di Gorizia. Secondo servizio, concerto gospel al Culturni Dom con una riflessione del direttore Igor Komel. Terzo servizio, le reginette del 2012 e Serena e Carmen. Quarto servizio, intervista la cantante Lisa nel 1997. Quinto servizio, vi faremo vedere una piccola parte del Capodanno di Gorizia e Nova Gorizza con la cantante Marta Spitt. L'intero servizio lo manderemo la prossima settimana perché stiamo cercando degli sponsor. E infine chiudiamo con un bellissimo balletto russo. Benissimo e partiamo veramente alla grande. Buon anno!